Ciao ragazzi sono Ceno Kakuna ed oggi siamo qua tornati con un nuovo video in Minecraft per mostrarvi oggi come creare una vera e propria trappola mimetica di testa di creeper in gioco Ma come sempre prima di iniziare col video vi consiglio di mettere like a quest'ultimo, iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per rompervi il suo prossimo video Venite a questo ragazzi e buona visione Inizieremo come sempre con l'introduzione del funzionamento di questa trappola Noi in lontananza vediamo una semplice anzi delle semplici testa di creeper messe a random sopra una pettaforma di cobblestone Ma quando ci avvicineremo noteremo una cosa alquanto particolare ragazzi Mensì una di queste Si muoverà e in pratica ci esploderà in faccia E infatti il trucco della trappola consiste proprio in questo ovvero Che quando un player qualunque passa e ci passa vicino Senza manco notarlo primamente ci dà solamente un'occhiata Automaticamente gli esploderà davanti E detto questo ragazzi beh inizieremo subito col tutorial Inizieremo subito a creare una fossa grande almeno 7x7 blocchi e comprofonita di 2 Per poi al centro metterci una tavola degli incantesimi Ecco fatto E sopra metteremo una barca per poi ovviamente di qualunque materiale Per esempio scelgo quello di betulla Ora creeremo una torretta di terra Per poi sponarci accanto a un creeper E in pratica farlo cadere dentro la barca Ecco romperemo la torretta E ora condistetemi un blocco E metteremo bene 3 TNT O vi mette per ogni lato di questa fossa Ecco 1, 2, 3 E ora lo faremo anche dall'altra parte E accanto metteremo dei pistoni rivolti verso le TNT Ecco qua E ora completeremo con il penultimo E abbiamo finito Ora tramite un blocco di pietra rossa Le attiveremo 1 a 1 Ecco Così in pratica ringabbiere il creeper in una sorta di catena Di TNT Ecco E ora elimineremo 1 a 1 I pistoni e i blocchi di pietra rossa E anche le TNT Quelle fuori Da questa sorta di cerchio Ora piazzeremo altre 3 pistoni Però questa volta un po' più sopra In confronto a quelli precedenti Per creare la pavimentazione Nella trappola Dove i lati ci metteremo nelle teste di creeper E al centro ci sarà quell'incarne rosso Quello imposto nella barca Ecco Dovremmo utilizzare per forza le slab di legno Perché se no il trucco non funzionerà Ecco E' un po' difficile otto metterli accanto ai pistoni Perché o vanno sopra oppo le giù Ma comunque lasciamo stare Ecco Ora faremo con l'ultima E abbiamo completato Ora gli attiveremo 1 a 1 come prima Ecco da questa parte E ora lo faremo con gli ultimi 2 Ecco fatto E ora ci sborrazzeremo gli ultimi pistoni In i blocchi di pietra rossa Di cui abbiamo fatto uso Ora come ultimissima cosa Per completare la nostra trappola Dovremmo infossare il creeper In carne rossa Con una slab di legno Come il pavimento stesso Ovviamente piastendone una sotto E ora Automaticamente Vabbè qua in pratica Il pistone è attivato E ora Lo spingeremo E subito togliere il blocco Di pietra rossa Se no il creeper morirà Ecco Ora metteremo ai lati E Un'esercizio di creeper Messe Un po' random Però in qualunque posizione Ecco E in pratica ragazzi La nostra trappola è completata Perfetto Metteremo gli ultimi 2 E ora penseremo di coprire I margini Nella pietroforma Di cobblestone Ed ora Dopo aver completato la trappola Faremo una prima generale Bensì riprendendo sempre Il concetto di primo Ovvero Che qualunque player Passerà vicino a quest'ultima Senza manca accorgersene Che tra queste Le teste di creeper Ce ne sarà uno In cane d'ossa Automaticamente Gli esploderà in faccia Ed ecco qualche La trappola avrà successo Ebbene sì Come sempre Il video finisce qui Ovviamente Spero che vi sia stato Il digredimento Lasciate un bel like Iscrivetevi e commentate E in descrizione Come sempre Troverete la presa Tutte le mie Fantasiche creazioni Che ho fatto finora Ma quindi Che posso dire Beh Ciao alla prossima gente Ciao alla prossima gente